Un tavolo della legalità in materia economico-finanziaria costituito da Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Polizia Postale, Ufficio Scolastico Regionale, è finalizzato a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado abruzzesi al rispetto delle norme in ambito economico-finanziario e su temi come corruzione, concussione, riciclaggio di denaro di provenienza illecita, cyber-risk, truffe online, usura, contraffazione, evasione fiscale. Il primo tavolo al Da Vinci Colecchi con gli studenti dell'istituto guidato dalla dirigente Elisabetta Di Stefano, argomenti molto importanti in un momento in cui a livello nazionale ad esempio si parla molto del nuovo codice degli appalti che è terreno di scontro politico, in quanto per alcuni ci sarebbe una liberalizzazione selvaggia degli appalti. Noi, la Banca d'Italia è molto attiva sul fronte dell'educazione finanziaria in generale, in questo ambito abbiamo inteso come priorità l'educazione dei giovani e rispetto della legalità in campo economico-finanziario. Noi siamo stati capofila in questo progetto che lanciamo oggi in questa scuola dell'Aquila, che però porteremo avanti poi nel corso dell'anno in altre scuole della Regione e porteremo avanti anche nel corso dei prossimi anni, proprio perché sentiamo l'esigenza di sensibilizzare i giovani sull'importanza del rispetto delle regole, che è il fondamento di ogni società civile. Prima facevo riferimento al codice degli appalti, è terreno di scontro politico, nel senso che alcuni pensano sia una liberalizzazione selvaggia, insomma voi siete un'istituzione e non fate politica, però l'attenzione deve essere alta. Ma noi naturalmente non ci pronunciamo su questo specifico aspetto, il tema io credo che sia generale di formazione, soprattutto delle giovani generazioni, sui temi del rispetto delle regole che sono fondativi per una società e per gli individui. Io credo che questo rimanga al di là della contingenza del dibattito, queste esigenze rimangono al di là della contingenza del dibattito politico, quindi temi come concussione, corruzione, evasione fiscale e come dicevo delle truffe online sono temi eterni che io temo, insomma discuteremo a lungo, su cui ecco dobbiamo investire nel medio-lungo termine. Tanti i testimoni della legalità che hanno parlato ai ragazzi della Banca d'Italia, della Polizia Postale, della Finanza e di tutti gli altri attori coinvolti.